Suleyman è morto! È morto con suo fratello, in questa città. Tu non sei nemmeno di qui. Tu non sai cosa significa che soffrire. Te lo insegnerò io. Soffrirai con me, Kryn. Sì. Forza. Non puoi resistere. Fallo! Non mi opporrò. Proprio come hai ucciso Tahir. Fallo! Vaffanculo, stronzo! Vuoi che detti io le regole? Ecco la regola numero uno. Passerei il resto della tua vita del cazzo a soffrire. Nunt, lasciarmi così, Kryn. Dimostra di essere un vero uomo. Cazzo, chiudi quella bocca di merda. Oh, no. Pazzesco. Con quale rapidità le situazioni si possono rivoltarmi. Questa ferita mi avrebbe ucciso. Ora tu sei appeso tra la vita e la morte. Mentre il GR è in attesa di portare me all'ospedale. Ti ho l'onore di decidere il tuo destino. Dammi il disco. Così ci sarà almeno una possibilità che avranno sopravvivo. E farò in modo che la tua morte sia in dolore. Oppure continuo a combattere e condanna la tua città. A perire con te. Ok, ok. Ok. Valore. Che te ne pare della mia decisione? Decisione, stronzo. Stronzo. Grazie a tutti. Che cosa volete? Raiss ci ha già detto di avere i dati dello scienziato morto. Ci interessa solo la cura. Vi stiamo offrendo una chance. Prova il resto dei dati e vieni con noi. Mi vengono in mente un sacco di motivi per mandarvi affanculo, ma facciamo finta un attimo che non mi crediate stupi. Mi serve la cura. È qui, in città, da qualche parte. Di certo non farete stranzate in stile ministero. Crane, ma te ne fotte davvero qualcosa di questa gente? Non sei uno di loro. È solo un lavoro per te. Non più. Mi farò sentire dopo aver deciso che cosa fare. Crane? Crane, mi senti? Sono a card. Sì, la sento. Che c'è, dottore? L'analisi dei campioni di tessuto si è confusa e i risultati sono... beh, dire fenomenali sarebbe poco. Crane, se recupera i dati di Zer, una cura è sicuramente possibile. Va bene. Ne parliamo quando ci rivediamo. Viaio che parla. Conoscete la procedura. Andate al rifugio più vicino e attendete l'alba. Buonanotte e buona fortuna. Buonanotte e buona fortuna.